Il concetto più importante di tutta l'ontologica è la categorizzazione. La categorizzazione degli oggetti è l'operazione concettuale più importante e noi apprendiamo a categorizzare gli oggetti in tutto il corso della nostra vita o perché facciamo un'esperienza diretta tramite la percezione, la sensazione e in qualche maniera ci rappresentiamo questa categorizzazione dall'esperienza senza magari riuscire a dare un nome a queste classi di oggetti ma li categorizziamo per similitudine, per esempio, una similitudine dell'aspetto o una similitudine funzionale oppure la categorizzazione ci viene comunicata per esempio a scuola oppure entrambe le cose. Quindi il concetto più importante da cui partiamo per parlare di rappresentazione a conoscenza e di ontologia è il concetto di appartenenza degli oggetti a categorie di oggetti e dobbiamo capire, qui chiaramente la fa da padrone in qualche maniera l'insiemistica che tutto sommato è sempre di supporto anche al significato della logica stessa come sapete l'insiemistica e cioè dobbiamo capire come le relazioni si collegano fra di loro in particolare, ad esempio, il concetto di sussunzione di una categoria di classi qui io utilizzerò nel corso di questa trattazione il concetto di categoria e il concetto di classe come dei sinonimi se una categoria di oggetti è un sottoinsieme di un'altra categoria come qui vediamo in figura noi possiamo associare a questa sussunzione di categoria una formula come abbiamo ben imparato a fare la formula del primo ordine che poi questa formula nei nostri ragionamenti deduttivi modus ponendoponens abduttivi o induttivi potrà avere una importanza fondamentale e a dire il vero appunto il meccanismo con cui noi impariamo a categorizzare gli oggetti e soprattutto a legare fra di loro le categorie abbiamo visto in un precedente modulo didattico è l'induzione logica questo nella misura in cui il ragionamento è parte di questo processo che porta alla categorizzazione però l'importante è avere una rappresentazione degli oggetti in classi di oggetti che poi queste classi di oggetti come siano costituite e come si arrivi a fare questo questo probabilmente esula un po' questi temi esulano un po' dall'intelligenza artificiale noi ci interessa adesso capire posto che la categorizzazione esista come la possiamo rappresentare all'interno delle formule noi potremmo rappresentare sostanzialmente le categorie in due modi o come predicati con un solo argomento per esempio palle da basket e questa rappresenterebbe quindi una proprietà di cui l'argomento l'oggetto che verrebbe istanziato con l'argomento godrebbe di essere una palla da basket B è una palla da basket oppure possiamo se facciamo così noi possiamo rappresentare la sussunzione di una categoria rispetto a un'altra come una formula che abbiamo imparato a fare l'oggetto di primo ordine se tutte le palle da basket sono anche palle e quindi il concetto di la categoria delle palle sussume quella delle palle da basket però noi possiamo rappresentare anche le categorie in un altro modo troviamo il concetto di reificazione da latino res rei cioè far diventare una categoria come una cosa e cioè dargli un nome alla categoria quindi la categoria non è più rappresentata come un predicato ma come una costante dopodiché il fatto che un'altra costante che rappresenta un oggetto l'oggetto rappresentato da quella costante faccia parte di quella categoria può essere risolto con un predicato specifico un predicato di membership e le relazioni fra le categorie potrebbe essere rappresentate da un altro predicato specifico sotto insieme e quindi sostanzialmente noi potremmo dire che B è una palla da basket in due modi o esprimendo questo concetto nella forma a noi ormai molto ben nota della classica ideologia del primo ordine oppure in quest'altra maniera in cui si fa riferimento ai simboli noti dell'insieme istica B appartiene a basket balls oppure basket balls è un sottinsieme di balls questi sono i due meccanismi fondamentali non abbiamo una preferenza di uno rispetto all'altro però è importante tenerli presente perché non facciamo confusione di utilizzarli contemporaneamente in maniera che potrebbe essere scorretta i membri di una categoria hanno una certa proprietà per esempio se X appartiene alle palle da basket allora X ha una proprietà è quella di essere sferico questo lo possiamo rappresentare utilizzando l'implicazione e qui abbiamo una rappresentazione mista perché noi potremmo anche avere qui la classe degli oggetti sferici e quindi X potremmo scrivere X appartiene a basket ball implica X appartiene a round abbiamo utilizzato qui una rappresentazione mista va bene la categoria può essere caratterizzata da certe proprietà quindi se X appartiene alle palle da basket allora qui c'è un se solo se quindi il che segnale tutte queste proprietà che vediamo qui sono espresse in logica del primo ordine meno questa qui che è espressa in notazione insinistica sono una specifica corretta e completa del concetto di essere una palla da basket chi l'ha detto questo non si sa però ci possiamo credere più o meno che X sia arancione che X sia sferica che il diambolo sia tot e che appartenga alle palle però non abbiamo per esempio specificato io potrei fare questa osservazione non potrebbe a me ecco vedi dopo come le ontologie in qualche maniera possono essere suscettibili di discordanze a me non mi sta bene questo se solo se perché io ci avrei messo qui anche la sostanza di cui è fatta perché potrebbe essere arancione essere sferica avere quel diametro giusto essere una appartenere alla alla categoria delle palle ma essere di acciaio e probabilmente sicuramente non sarà una palla da basket a meno che questo palle qui non comporti palle di gomma ma probabilmente non è perché altrimenti il pallone di calcio non farebbe parte di questa categoria dunque non è complesso definire quelle che sono le proprietà che caratterizzano una certa categoria non è per niente facile come vedremo fra un po' una categoria può anche essere non sotto insieme di una categoria ma membro di una categoria di categorie attenzione cioè cosa vediamo qui vediamo che la categoria dei cani appartiene alla categoria delle specie domestiche e non è un sotto insieme questo è un errore frequente che fanno gli ingegneri della conoscenza perché cioè tutti noi in realtà nei nostri ragionamenti possiamo incorrere in errori di questo tipo noi possiamo dire che tutti i cani sono oltre che cani anche animali domestici perché la categoria dei cani è una sottocategoria degli animali domestici degli animali domestici ma se io parlo di specie domestiche non animali domestici allora io non posso dire che i cani sono una sottocategoria delle specie domestiche sarà una sottocategoria degli animali domestici semmai è la categoria dei cani che è relazionata alla categoria delle specie domestiche e attenzione la categoria dei cani non è un sottinsieme della categoria degli animali domestici ma è bensì un elemento della categoria degli animali domestici e questi sono proprio i tipici errori che si va a fare quando si costruisce un'ontologia concetto di disgiunzione concetto di partizione vedremo allora come si fa a dire che due categorie sono disgiunte per esempio animali e vegetali due categorie sono disgiunte s è un insieme di categorie in questo caso come vedete nell'esempio che c'è qui è un insieme fatto di solo due categorie ma in generale un insieme di categorie saranno disgiunte se comunque presi due elementi appartenenti a c con 1 e c con 2 tale per cui c con 1 appartiene a s e c con 2 appartiene a s e c con 1 è diverso da c con 2 l'intersezione fra c con 1 e c con 2 deve essere nulla cioè non ci devono essere all'interno dell'insieme di categorie s due categorie che abbiano una intersezione una intersezione non nulla ovviamente una decomposizione esaustiva per esempio americani canadesi messicani sono una decomposizione esaustiva dei nord americani e quando questo accade cosa significa che una un insieme di categorie sono una decomposizione esaustiva di un'altra categoria lo sono per definizione se dato un qualunque elemento appartenente alla categoria complessiva esiste per forza un elemento che appartiene alla decomposizione un elemento cx che appartiene alla decomposizione e questo elemento cx quindi questa categoria è una categoria a cui appartiene l'elemento e cioè qualunque sia l'elemento e che appartiene alla categoria alla categoria complessiva e questo elemento e deve per forza appartenere a una delle categorie che compongono la sua decomposizione esaustiva questo è il concetto di decomposizione esaustiva la definizione invece qual è il concetto di partizione il concetto di partizione non coincide con quello di decomposizione esaustiva per esempio probabilmente è una partizione quella che distingue gli animali in maschi e femmine perché una partizione è una decomposizione esaustiva in cui però tutte le categorie che fanno parte della decomposizione sono disgiunte fra di loro quindi quella fra americani canadesi e messicani non è una partizione perché ma è una decomposizione esaustiva non è una partizione perché ci saranno cittadini nordamericane che hanno una doppia cittadinanza da un po' di tempo a questa parte sembra che sarà sempre più difficile ma attualmente ancora la categoria dei nordamericani non è scomposa e meno esaustiva in americani cioè è decomposa e meno esaustiva in americani canadesi e messicani ma questa americani canadesi e messicani non è una partizione dei nordamericani è importante rappresentare le ontologie quindi rappresentare le categorie degli oggetti e capire come le categorie sono parti di altre categorie o sono sotto insiemi di altre categorie o un insieme di categorie è una decomposizione esaustiva di un'altra o una partizione e così via perché 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 se l'ontologia è comunicata all'agente artificiale l'agente artificiale sapendo quali sono avendo riconosciuto un oggetto sapendo che questo oggetto appartiene a una certa categoria se gli è stata data anche l'ontologia dentro e in qualche maniera lui è in grado di ragionare anche con l'ontologia allora è in grado di inferire delle proprietà di quell'oggetto che magari per esempio solo dall'aspetto non sarebbe in grado di inferire cioè supponiamo che abbiamo un sensore collegato con un braccio robotico che individua un oggetto voidale che ha delle caratteristiche che possono essere dedotte dai sensori che lo portano a ipotizzare di stare riconoscendo un oggetto uovo se il ragionamento se tutta l'operazione si fermasse qui ha riconosciuto un uovo ma se avesse anche un'ontologia che alla classe alla categoria degli oggetti uovo facesse corrispondere una relazione di sussunzione cioè quindi questa categoria è sussunta in quest'altra una sussunzione con oggetti fragili automaticamente il braccio robotico l'agente artificiale affererebbe quell'oggetto lì con delicatezza perché lo ha associato grazie all'ontologia che gli è stata fornita alla categoria degli oggetti fragili quindi sostanzialmente la categorizzazione degli oggetti le tassonomie e l'ontologia serve per poter fare inferenza sulle proprietà degli oggetti però non è per niente facile fare questo soprattutto se si ha a che fare con le categorie naturali ecco qui insomma Wittgenstein ha ragionato molto su questo è molto difficile effettivamente categorizzare gli oggetti naturali perché gli oggetti artificiali quelli addirittura che fanno parte del mondo delle idee sono definiti sono caratterizzati da proprietà che sono insieme da definizioni stesse dei concetti quindi un triangolo è un poligono che ha tre lati non c'è ombra di dubbio se però parliamo di pomodori e vogliamo categorizzare la categoria vogliamo definire quali sono le proprietà come dicevamo prima delle palle da basket che definiscono in maniera sostiva l'essere un pomodoro e cominciassimo con per esempio con il colore rosso abbastanza rotondo poi questo abbastanza non si capisce bene cosa sia è un concetto fazzi come abbiamo detto precedentemente e nella prima unità didattica con fogliolette in cima con del succo dentro eccetera se andiamo avanti scopriamo che da tutto questo elenco di proprietà rimarrebbero fuori i pomodori san marsan perché non hanno un comportamento un aspetto sferico rimarrebbero fuori i pomodori verdi perché non sono rossi e così via è molto difficile cioè categorizzare gli oggetti che appartengono alla natura allora potremmo ragionare definendo per esempio non so una sottocategoria di proprietà che caratterizzano la classe come la classe tipica di quegli oggetti che poi sarà un sottinsieme della classe di quegli oggetti e quindi potremmo dire per esempio che se x appartiene ai pomodori tipici allora sarà rosso e sarà rotondo questo però è un tentativo che andrebbe farebbe poca strada perché qualcuno potrebbe invece ritenere che pomodoro san marzano è comunque una classe di pomodoro tipico perché magari poi avranno una diffusione maggiore questi pomodori san marzano dei pomodori che non sono non sono che sono rotondi ma poi in generale una delle tante osservazioni che fece a suo tempo relativamente a queste problematiche Wittgenstein sono che i membri di una categoria naturale condividono fattori di somiglianza però in realtà non è sempre così perché noi per esempio consideriamo giochi il calcio gli scacchi il poker il solitario con le carte il forza 4 il monopoli e così via ora che cosa hanno di simile tutte queste categorie di oggetti oggetti insensolato perché anche qui è un concetto quello di oggetto esso stesso è un concetto che ha un'ontologia abbastanza complessa perché è un oggetto il calcio è un oggetto gli scacchi ovviamente non sono un oggetto che cosa sono non è facile sono degli eventi non è per niente facile definire questi questi concetti sono concetti complessi però una cosa che possiamo da questo esempio che faceva Wittgenstein tirar fuori forse è che a volte la categorizzazione degli oggetti anche se questi qui che sono oggetti sicuramente può essere fatta non tanto in funzione degli aspetti ma in funzione della funzionalità cioè in funzione delle funzioni che questi chiamiamoli oggetti svolgono perché per esempio il gioco è un qualche cosa che fa divertire potremmo dire quindi qualunque cosa che fa divertire un oggetto che fa divertire è un gioco anche se non esiste una somiglianza che derivi dai sensori che associa quegli oggetti ad appare appartenere ad una medesima categoria ciò che gli associa ad appartenere ad una medesima categoria è il ruolo funzionale che hanno nei confronti di chi di qualcun altro sono concetti molto complessi e a volte notava Quine che se noi ci limitiamo proprio a interpretare in senso stretto le definizioni come quelle della pala da basket di cui prima possiamo poi dopo fare anche degli inferenze che lui chiamava infelici per esempio una noi potremmo definire ad esempio una zitella come un oggetto che appartiene alla categoria delle femmine che appartiene anche alla categoria degli adulti e che appartiene alla categoria delle persone non sposate se noi interpretiamo vedete qui la doppia implicazione questa come la categorizzazione cioè la definizione categorica del concetto di zitella noi potremmo fare inferenze che per esempio Madre Teresa era una zitella cosa che a rigor di logica se questa è una definizione esaustiva e completa allora è vera ma pur nella sua verità ci lascia abbastanza sorpresi e in qualche maniera insoddisfatti perché concetti anche molto importanti nella 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 categorizzazione degli oggetti e quindi nella definizione delle ontologie sono le composizioni fisiche supposto che stiamo parlando di oggetti che hanno una fisicità la composizione fisica normalmente viene espressa come una relazione di parte di part of noi potremmo dire per esempio che Ancone è parte dell'Italia che l'Italia è parte della comunità europea non so per quanto tempo ancora che la comunità europea è parte dell'Europa inteso come espressione geografica e che l'Europa è parte della terra di nuovo sempre come espressione geografica e quindi il concetto di parte di potrebbe essere anche se fosse l'esempio non è un po' confuso e ha degli aspetti comunque di problematicità il concetto di parte di è suscettibile di generare una gerarchia di appartenenza di parte di un oggetto che parte di un altro e dovrebbe godere questo è poco forse discutibile del concetto di parte di della transitività e della riflessività e quindi se io ho che x è parte di y e y è parte di z tutti quanti dovremmo essere abbastanza d'accordo sul fatto che x è parte di z per cui se il piede è parte della gamba e la gamba è parte del corpo umano allora diciamo che il piede sarà parte del corpo umano e anche forse riflessiva quindi il piede parte del piede se tutto questo è vero come dovrebbe essere possiamo dire che ancona è parte della terra per la transitività della proprietà di parte di però dovremmo dopo stare attenti agli oggetti composti nella terza unità didattica che fa terza ed ultima che fa parte di questo modulo vedremo come sarà grazie alle logiche descrittive più semplice definire gli oggetti composti se noi volessimo utilizzare la logica primordine per definire per esempio cosa è un bipede guardate che sforzo che dovremmo fare dovremmo e penso che tutto sommato poi potremmo anche essere soddisfatti del lavoro però dovremmo definire che un oggetto è un bipede cioè ha due gambe se dati tre oggetti abbiamo che il primo oggetto è una gamba il secondo oggetto è pure una gamba il terzo oggetto è un corpo e il primo oggetto è parte di a e anche il secondo oggetto è parte di a e anche il terzo oggetto è parte di a che il primo oggetto è attaccato al terzo oggetto, che il secondo oggetto è attaccato al terzo oggetto, che il primo oggetto è altra cosa rispetto al secondo oggetto e che qualunque sia un quarto oggetto che fosse una gamba e fosse parte dell'oggetto A di cui stiamo predicando l'essere un bipede, beh, allora questo significherebbe che questo terzo oggetto o coincide con L1, cioè con il primo oggetto, o coincide con il secondo, cioè è un bipede, si ha due gambe e ha solo due gambe, guardate che sforzo bisogna fare in logica del primo oggetto, ce la si fa, ma c'è un bello sforzo da fare, e tutto questo vedremo che sarà molto più semplice farlo con la logica descrittiva, che è una logica che è stata pensata, insieme di logiche, una famiglia di logiche sono state pensate per rappresentare le ontologie, ma lo vedremo, ripeto, nella prossima unità didattica. Un altro concetto interessante che dovremmo stare attenti a non far conoscere se dovessimo essere chiamati a realizzare delle ontologie è distinguere l'insieme, che è un concetto puramente astratto, dal gruppo di oggetti che a volte noi utilizziamo il concetto di insieme per rappresentare, cioè un conto è dire un insieme di mele, un conto è dire un gruppo di mele, un gruppo di mele composto da tre mele, l'insieme delle tre mele, mela 1, mela 2, mela 3, non è l'insieme delle tre mele, perché l'insieme delle tre mele non ha delle proprietà fisiche come gli oggetti hanno, di cui lui è un insieme. In particolare, noi possiamo dire che un gruppo di una mela è la mela, coincide con la mela stessa, e invece un gruppo di mele non coincide con l'insieme delle mele, perché di un gruppo di mele, per esempio le mele che stanno in un cesto, ha un peso, che è il peso complessivo delle mele che stanno nel cesto, ha una massa, adesso il fatto che le mele non siano collegate fisicamente fra di loro non significa che non abbiano una massa, invece un insieme di mele non ha una massa, e quindi non ha un peso l'insieme di quelle tre mele, e quindi non potremmo associare delle proprietà all'insieme di, le stesse proprietà che potremmo associare al gruppo di, al mucchio di. Inoltre, e questo è un concetto abbastanza sottile, il gruppo di è parte di ogni oggetto che ha tutti i suoi elementi come parte, quindi per esempio, se io prendo un gruppo di sedili di un'automobile, cioè i sedili che fanno parte di un'automobile, in quanto gruppo di sedili è parte anche dell'automobile, ed è anche la più piccola parte, noi possiamo anche dire questo, che dato un oggetto, qualunque sia X, se X appartiene a un certo insieme di oggetti che fanno parte di un mucchio, allora quell'oggetto è parte del mucchio, ovviamente, ma possiamo anche dire che qualunque sia Y, se per ogni X che appartiene a questo mucchio, abbiamo che X è parte di Y, allora il mucchio di è parte anche di Y, quindi per qualunque oggetto tale per cui un oggetto componente del mucchio è parte di quell'oggetto, abbiamo che il mucchio stesso degli oggetti, X, è parte dell'oggetto Y stesso, qualunque sia Y, il mucchio di è il più piccolo oggetto che ha tutti gli suoi oggetti componente, che è parte di un oggetto che ha tutti i suoi oggetti come componenti. Se poi andiamo a considerare il tempo, e che il tempo, ovviamente, insieme al peso, al contatto fisico, alla fisicità degli oggetti, anche il tempo, ovviamente, rientra nelle nostre percezioni, quindi rientra nella nostra definizione di oggetti, di esseri umani, e quindi dobbiamo far sì che i concetti siano facilmente estendibili anche a gestire il tempo. La parte della rappresentazione di conoscenza che più si è dedicata alla rappresentazione del tempo è il cosiddetto calcolo degli eventi, Event Calculus, il quale, questa parte qui, vuole essere un superamento della Situation Calculus, che è quello che abbiamo visto nel caso della pianificazione, in cui il tempo non esisteva, ma era implicitamente scandito dalle azioni che venivano ipotizzate a essere compiute. Qui, invece, entriamo proprio dentro la rappresentazione del tempo, una categorizzazione tipica è quella dell'Event Calculus, in cui le formule atomiche sono sempre riferibili a un istante temporale, e quindi quello che prima era un predicato, oggi un predicato che, per esempio, rappresenta una relazione fra oggetti, nell'Event Calculus diventa un termine, diremmo, e quindi lo chiamiamo fluente, un termine perché la sua verità o falsità è associabile a un istante di tempo, non è da considerare in senso assoluto, nell'Event Calculus, nel calco degli eventi. Cioè noi, fino adesso, se Andrea studiava Intelligenza Artificiale, noi potevamo rappresentare questo concetto, semplicemente, e andiamo anche a farlo se vogliamo, e se non siamo nell'Event Calculus, con un predicato, studia, che mette in relazione due oggetti del dominio, uno che è associato alla costante Andrea e uno che è associato alla costante Intelligenza Artificiale. Ma, se noi vogliamo sapere se è vero, bisogna specificare il giorno e l'ora nell'Event Calculus. Quindi, quella che era nell'Intelligenza Artificiale un predicato, qui diventa una lettera funzionale e il fatto che quel termine, a quel punto, perché diventa un termine, non è più una formula, sia vero o falso, lo possiamo specificare solo associando un altro argomento, quindi a questo punto abbiamo due argomenti, questo era il termine, quella che era una formula, qui diventa un termine, virgola, qui abbiamo un altro termine, che è una costante che rappresenta un istante temporale, e poi ci mettiamo come impregato Holtz, che significa vale, è vero che Andrea studia Intelligenza Artificiale all'istante T? Beh, questa è una cosa che possiamo dire vero o falso, e quindi questa è la formula predicativa, questa è la formula, e questo invece era un termine, il termine dentro una formula, la formula ha due argomenti, è una formula che ha un predicato classico, Holtz, e oltre al concetto di fluente reificato, possiamo avere il concetto di evento reificato, per esempio, abbiamo un concetto, conferimento di laurea, quindi una cerimonia per esempio, che associa Andrea, ingegnere informatica ad Ancona, noi possiamo considerare un evento e uno membro di questa categoria di eventi, ed eventualmente andare a vedere se questo evento è stato verificato in un istante temporale o meno, quindi distinguiamo anche il concetto di istante di tempo dall'intervallo di tempo, l'intervallo di tempo è tutto il tempo che scorre fra un tempo T1 e un tempo T2, con questi concetti andiamo a definire l'insieme dei predicati che sono fondamentali nel calcolo degli eventi. Holtz, l'abbiamo già detto, praticamente specifica se è un certo fluente, è vero o no, a un certo istante di tempo. Il fatto che invece, accennavo poco fa, un certo evento si sia verificato o meno all'interno di un certo intervallo di tempo, viene specificato nel calcolo degli eventi con il predicato Eppens. Attenzione, Eppens non ha come secondo decremento un istante di tempo puntuale, perché ogni evento si suppone che abbia una durata e quindi non sia associabile a un istante temporale. mentre una certa proprietà o relazione, se appunto essere laureato, può essere riferibile a un istante temporale, l'evento, nella realtà fisica, deve avere un istante di inizio e un istante di fine, quindi associabile a un intervallo nell'event calculus. Dopodiché, un evento può causare il fatto che un certo fluente comincia a essere vero o può causare il fatto che un certo fluente cessa di essere vero. Il fluente cessa di valere in un istante all'interno di un certo intervallo e questo si specifica con clip, oppure il fluente inizia a valere in un istante all'interno di un intervallo e questo tipicamente viene rappresentato con restored. Questi sono i sei predicati più importanti dell'event calculus. Olds, Happens, Iniziates, Terminates, Clipped, Restored. Gli intervalli temporali possono avere delle relazioni, quindi un intervallo J è successivo all'intervallo I se l'istante di inizio di J è anteriore all'istante di inizio di I e vedete anche gli altri e così si possono definire delle relazioni temporali fra gli eventi. L'event calculus è molto importante però noi dobbiamo andare avanti e quindi lo lasciamo a questa molto superficiale introduzione perché andiamo a parlare anche delle misure e poi andremo verso la conclusione di questa unità didattica andando a rappresentare concetti abbastanza sottili. Il concetto di misura è tutto sommato un concetto abbastanza facilmente gestibile. Direi che gli esempi che sono qui non hanno una grande difficoltà di comprensione se non che l'ultimo concetto che vedete qui rappresentato è che nell'intelligenza artificiale spesso non più che le misure ci servono le relazioni fra le misure. Cioè questo esempio qui è tratto da un sistema di supporto all'indagine di polizia su cui ho avuto occasione di lavorare e molte volte per prendere una decisione dobbiamo solo sapere se una certa entità è maggiore come dimensionalmente maggiore o minore di un'altra non ci interessa tanto sapere di quanto esattamente quello che accade quando nelle squadre di calcio vincono un campionato non importa qual è il distacco fra la prima e la seconda fra la seconda e la terza per sapere chi vince il campionato l'importante è che un distacco ci sia invece più importante è capire fra una cosa e una sostanza e anche qui nelle ontologie c'è una grande confusione come abbiamo visto nella prima unità didattica quando abbiamo parlato di snomed e di ct allora cos'è un tavolo che differenza c'è fra un tavolo e il burro la differenza importante da notare è che il tavolo è un oggetto che è costituito da alcune parti c'è un piano delle gambe forse c'è un cassetto invece il burro non è un oggetto ma è una sostanza e che differenza c'è fra oggetti e sostanze e nel caso se body appartiene al burro allora una qualunque parte di body appartiene anche alla categoria del burro cioè se io taglio il burro in parti ogni cosa che ottengo apparterrà alla sostanza burro mentre se io invece taglio un taglio tavolo in parti quello che ottengo non sarà più un tavolo questo è il concetto più importante che differenza un oggetto da una sostanza e la si può scoprire in qualche maniera diciamo definire questa differenza utilizzando il concetto parte di perché se io la proprietà intrinseca la proprietà intrinseca appartengono alla sostanza dell'oggetto e non alla sua interezza per esempio il punto di fusione del burro è 30 gradi centigradi mentre invece le proprietà istrinseche appartengono alla cosa e non sono mantenute dopo la suddivisione per esempio il peso di un tavolo 30 kg se io lo separo in parti non è che le parti continuano ad avere quel peso di 30 kg proprietà intrinseche proprietà estrinseche quindi quando andiamo a definire l'ontologia bisogna avere molto chiare queste differenze concettuali cosa che non è sempre facile fare perché se io parlo per esempio di cioccolato e ho la tavoletta di cioccolato oppure un etto di cioccolato sono sostanze o cose perché se io la tavoletta di cioccolato la spezzo in due continuerò ad avere una tavoletta o due tavolette di cioccolato forse sì dipende da cosa intendo per tavoletta un etto di cioccolato se lo divido in due non avrò più un etto di cioccolato beh insomma qui potete ragionarci un po' e vi fate un'idea di quanto sia complesso distinguere fra cose e sostanze distinzione che però è molto importante fare quando si va a costruire un'ontologia o anche un'ontologia di dominio bene nella prossima unità didattica che chiuderà questo modulo dedicato alle ontologie e a concetti relativi alla rappresentazione della conoscenza andremo a vedere alcuni formalismi che sono stati appunto utilizzati per rappresentare la conoscenza in maniera efficiente e ci chiederemo perché dei formalismi e non la logica del primo ordine cercheremo di rispondere un po' a questa domanda faremo dei confronti e chiuderemo all'argomento e chiuderemo